amici del vaso di pandora benvenuti il flusso di gas del nord stream scende al 20 per cento ad amsterdam intanto il prezzo vola a 225 euro il ministro della transizione roberto cingolani ci rassicura dichiarando presto saremo indipendenti dal gas russo queste sono le ultime notizie prima di iniziare la nostra intervista con i miei illustri ospiti che presento subito giacomo gabellini benvenuto ben ritrovato grazie carlo buon pomeriggio a tutti e benvenuto a stefano orsi ciao a tutti scusatemi se ridevo prima quando ho sentito cingolani è un comico formidabile non non resisto rido ok prendo prendo atto prendo atto allora questi appunto gli spunti ma avremmo molto altro di cui parlare intanto direi come è nostra consuetudine partiamo con un aggiornamento sulla situazione della situazione in ucraina con stefano prego allora noi abbiamo una situazione andiamo con le mappe la mappa 1 abbiamo e partiamo dal nord quindi dal fronte di kharkov e abbiamo una situazione che è grosso modo stabile lunga linea dei fronti di contatto c'è la questione sul fronte dove ci sono le le frecce per quanto riguarda la situazione dei territori oltre il fiume siverschi donetsk in questo caso è data dai russi la comunicazione che hanno ripreso questa zona gli ucraini invece lo contestano si chiarirà nei prossimi giorni la reale situazione di questo fronte poi per quanto riguarda gli altri passiamo alla mappa 2 abbiamo il settore di itzium in questo settore i russi hanno intanto la mappa segna finalmente giustamente la foresta sotto il controllo russo i russi hanno ripreso il controllo di tre sono questi cerchiati di tre villaggi che avevano visto l'inserimento di gruppi di incursori ucraini quindi hanno ripreso il controllo di questo settore e in più hanno esteso un po più a sud il controllo su alcuni villaggi passiamo quindi alla mappa 3 che è nella parte nord di sloviansk nella parte nord di sloviansk vediamo appunto i tre villaggi che sono come sciucava dimitrovka e dibrovne che sono quelli dove i russi hanno esteso il controllo ma c'è ancora attività ucraina quindi sono contesi inoltre hanno abbassato il la linea del fronte verso sloviansk prendendo il controllo di un villaggio che si chiama krasnopiglia su krasnopiglia è sicuramente sotto controllo russo mentre il settore che vedete andare verso la la foresta ecco verso in direzione di sloviansk quello non è sotto controllo russo anche se la mappa in realtà lo indica poi sulla destra ci sono alcuni villaggi che sono stati recuperati al controllo ucraino e adesso si sta combattendo che sono sidorovo e prishib quindi sloviansk al momento non è sotto attacco via terra da parte russa ma riceve regolarmente quasi ogni giorno il lancio dei missili per colpire gli obiettivi sensibili militari di questa zona passando alla mappa successiva la mappa 4 di siversk ecco vediamo il settore che va da sloviansk fino a siversk in questa zona abbia il fronte che è più o meno stabile nel senso che quando la settimana scorsa abbiamo dato la notizia del che erano ricominciate le operazioni offensive i russi avevano iniziato alcune avanzate per saggiare il terreno non si sono ripetute erano in attacchi in pic di piccole unità non grandi con pochi mezzi hanno in pratica contato diciamo i cannoni del nemico in modo da vedere la capacità di risposta il fronte al momento è più o meno stabile si combatte su alcuni villaggi ma il grosso del lavoro è assegnato alle artiglierie che lavorano in gergo le posizioni del nemico sia gli ucraini che colpiscono con gli aimars le retrovie russe cercando di colpire i più possibili depositi sia i russi che a loro volta colpiscono i depositi ucraini e in più hanno una elevata capacità di colpire le linee con un numero di cannoni che è preponderante rispetto ai quelli ucraini passiamo alla mappa successiva abbiamo la zona di arti ma la mappa 5 si esatto si è la mappa 5 arti e mosk o bakhmut come la chiamano gli ucraini vede in questa zona vedete cerchiati alcuni punti dove versiria dove ci sono gli attacchi e poi in particolar modo il fronte più attivo è questo a sud dove ci sono tre località qui c'è semioria che è un saliente che i russi hanno creato novo lugansk che è in basso e la centrale termoelettrica allora novo lugansk e la centrale termoelettrica sono ora sotto controllo russo da ieri pomeriggio a stamattina è stata data la notizia della conquista da parte russa di queste due località e stanno preparando in pratica il fronte più avanzato per avvicinarsi a bakhmut o arti mosk hanno preso anche un villaggio più a nord direttamente a est della città in questo modo si stanno lentamente avvicinando questo avviene perché cedono le linee dopo il lavoro delle operie passiamo alla mappa 6 donetsk e il nord di mariupol abbiamo il fronte di advevka che vede kamianca che è appunto la zona cerchiata che è oggetto del dei combattimenti era stata presa dai russi adesso è disputata donetsk è stata nuovamente martellata dalle artiglierie addirittura hanno usato i razzi con la termite incendiaria sulla zona abitata dai civili anche il quartiere di chiroschi è stato colpito più a sud invece nella zona a nord di mariupol ci sono stati alcuni villaggi che sono passati di mano e cioè erano stati riconquistati dagli ucraini durante un'offensiva nelle settimane scorse sono stati ripresi adesso dai russi passiamo a una mappa successiva la 7 zaporizia su zaporizia e nel fronte sud quello più attivo perché perché sono stati presi tre villaggi qui a nord nella parte a destra della mappa contro uno preso invece dagli ucraini e poi soprattutto nella parte a sud sono stati presi quattro villaggi cinque con novandrifka che è stata presa oggi anzi ieri scusatemi ieri è stata presa novandrifka che nella parte centrale del del settore dove ci sono le le frecce che puntano verso l'alto questo un settore da tenere sotto controllo perché non c'era stata un'offensiva ucraina in precedenza e quindi questi sono conquiste che i russi stanno facendo avanzando sempre con piccole unità non ci sono grosse unità in questo settore andiamo ancora oltre la mappa 8 che è quella zona di kerson kerson è la zona più confusa innanzitutto sulla parte destra della mappa vedete la centrale di energodar vicino al lago dove c'è nikopol per capirci a sud est c'è energodar lì c'è la centrale nucleare più grande d'europa sei reattori nei giorni scorsi gli ucraini cosa hanno fatto l'hanno colpita con dei droni suicidi non hanno colpito i reattori chiaramente però non è un bel segno sferrare degli attacchi contro una centrale nucleare ecco questo è una cosa che dovrebbe far gridare preoccupate tutte le cancellerie d'europa invece non lo sento fare allora e in questo settore vedete molti punti interrogativi perché perché questo è un settore chiave chiave della propaganda innanzitutto perché su questo settore si è giocata tutta la propaganda del presidente zelensky sui guadagni ucraini e su sulle avanzate e via dicendo purtroppo per lui ho verificato poi le posizioni principali ci sono stati dei guadagni solamente nella zona centrale dello schieramento quello vicino a subito a destra di mikolaiv per capirci dove c'è tutta quella concentrazione di punti interrogativi nella parte nord dei punti interrogativi dove c'è bilori bilorozka quel settore è stato riconquistato effettivamente dagli ucraini ma adesso in precedenza era stato perso dagli ucraini quindi vanno avanti indietro senza senza particolari guadagni che si stabiliscano nel tempo come stabili quindi guadagni acquisiti diciamo territori acquisiti in maniera continuativa ad esempio nel sud avevano preso tre villaggi importanti come andreovka stanislav e un altro in direzione di kerson e li hanno persi in questi giorni quindi non ci sono stati molti guadagni nella parte nord ad esempio c'è stata una diciamo storiella di propaganda che è stata messa in giro dai mezzi di comunicazione che riguardava viso copiglia lì hanno detto due innanzitutto 2000 soldati russi sono stati circondati poi 2000 sono diventati mille poi nessuno nel senso che non è stato circondato nessuno gli ucraini avevano fatto una puntata su un paesino di quattro case o lione a sud est a sud ovest di viso copiglia ma erano una cinquantina di soldati e non è che potessero circondarne 2000 come hanno detto hanno poi perso la posizione a seguito della del fuoco dell'artiglieria russa i russi approfittando del ritiro di alcune unità ucraine nel frattempo hanno preso effettivamente il controllo di quei villaggi che si vedono bordati di rosa e contestati dagli ucraini però effettivamente pare che li abbiano davvero presi sotto il loro controllo ok basta è tutto qui per quanto riguarda ultime due cose la questione dei ponti il ponte di kerson è stato colpito più volte riparato e nuovamente colpito li colpiscono perché vogliono fermare il traffico dei rifornimenti che arrivano ai soldati russi e a odessa a loro volta i russi hanno colpito più volte il ponte di zatoca che è essenziale per i trasferimenti autostradali e ferroviari dei rifornimenti dalla romania verso odessa questa è un'analisi sempre puntualissima e precisa e molto esauriente anche di stefano stefano orsi giacomo che che considerazioni complessive si possono fare direi che come diceva stefano il fronte piuttosto la situazione piuttosto stabile si registra come sempre l'utilizzo intensivo della dell'artiglieria da parte dei russi che il vero vantaggio strategico di cui godono i russi rispetto alla prima diciamo la prima fase dell'operazione speciale operazione z si registra un proprio come dicevo un impiego costante di questi questi sistemi che stanno mettendo in ginocchio le 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 difese le linee di difesa ucraine che gli stessi ucraini hanno stessi soldati ucraini sentite da alcuni giornali americani sempre ben informati sempre con ambienti legati ad ambienti dell'intelligence come politico e come new york times sentite fonti ucraini hanno riferito che l'artiglieria russo li sta mettendo in ginocchio e quindi i russi stanno centelinando proprio le perdite umane utilizzo facendo un largo utilizzo di questi di queste di queste tipologie di armi sul fronte opposto si segnala un una continua a diciamo lotta lotta al coltello tra i apparati di sicurezza ucraini e perché per esempio adesso ultimamente sembrerebbe che zenensky sia arrivato ai ferricorti con quello che era il suo principale sponsor cioè l'oligarca kolomoisky al quale si sembrava gli stessero togliendo poi ancora non si è capito bene perché sempre difficile districarsi tra il mare magnum delle notizie che arrivano però sembrava gli stesse togliendo la cittadinanza ucraina che era o kolomoisky per inciso è il proprietario del canale dell'evitenza televisiva che ha trasmesso servo del popolo che ha finanziato la campagna elettorale di zenensky che finanziava il battaglione al dove tutti i principali gruppi neonazisti che hanno hanno preso possesso degli apparati di sicurezza dell'ucraina certo e stefano dove dove vuole arrivare la russia secondo te la russia vuole arrivare a risolvere il problema della sicurezza per il suo paese quindi non si fermerà al solo donbass perché vede che l'appoggio occidentale nel rifornire e riarmare l'ucraina non si fermerà pertanto dovrà andare oltre l'hanno già detto di fatto che con tutti questi armamenti che forniscono gli obiettivi sono cambiati e quindi dovrà procedere oltre e volevo aggiungere al alla questione della diciamo paranoia di zelensky che si sta manifestando che ha dovuto eliminare anche degli alti esponenti del dei vertici del del servizi speciali dell'esercito ucraino che era tra l'altro un suo amico e poi i vertici della procura giudiziaria del dell'ucraina e poi un altro vertice militare e questi indicano che non è soddisfatto di quanto sta avvenendo di come sta andando la campagna militare al di là delle dichiarazioni di fatto per capire quanto è stato efficiente la russia nel distruggere l'esercito ucraino di fatto se noi togliessimo tutte le forniture occidentali l'ucraina a questo punto non avrebbe quasi più artiglieria e meno che mai mezzi blindati o corazzati perché i polacchi stanno fornendo tutto quello che possono fornire a livello di carri armati ora se arriveranno gli abrams potranno fornire anche l'ulteriore tranche di 236 carri pt 91 dopo averne forniti 234 di t 72 m1 e si parla anche di fornire aerei perché stanno esaurendo anche quelli dei paesi ex patto di varsavia che avevano a disposizione che hanno cercato di fornire in questi mesi ok e giacomo la la russia non si accontenta della del donbass secondo te ma direi proprio di no per come la vedo io già fin dall'inizio era chiaro che non si sarebbe accontentata del donbass perché se si fosse voluta accontentare del donbass avrebbe potersi a garantire la difesa della delle due repubbliche indipendentiste che sarebbe stata indubbiamente qualcosa di costoso ma probabilmente le sarebbe avrebbe consentito di risparmiarsi tutta quell'ondata di sanzioni che che l'avrebbe che quindi le hanno inflitto alcuni danni a livello economico entreremo in un discorso molto più ampio se si addentrassimo in questo in questo ambito il problema è che al punto in cui siamo secondo me la russia cerca di creare un cuscinetto oppure qualcuno di parla di ammettere proprio stanno organizzando dei referendum nella regione del di lugansk di donesk di richardson eccetera si parla di referendum che chiederebbero l'annessione la russia però mio parere non sarebbe una mossa molto logica perché a quel punto comunque il confine tra la nato e la russia e si estenderebbe a quel punto sarebbe molto più logico dal punto di vista della russia mantenere queste repubbliche come stato indipendente cuscinetto ma per far sì che questa cosa funzioni davvero occorre conquistare anche tutto l'arco settentrionale del confine quindi anche la zona di di kharkov che quindi richiede uno sforzo piuttosto ampio il punto è che dal mio punto di vista credo si le analisi si manchino secondo me il bersaglio il cuore della situazione perché dicono le russi avanzano lentamente ma il problema non è che le cavalcate travolgenti non si vedono più dalla fine della seconda guerra mondiale o dalle guerre israeliane che hanno condizioni ben diverse e qui probabilmente si salta la linea di difesa ucraina si rischia di arrivare fino al niepro senza che ci siano consistenti difese naturali in grado di offrire all'esercito ucranio in ritirata quello che resta dell'esercito ucranio in ritirata efficaci for roccaforte su cui attestarsi e quindi a quel punto liberamente si salta la prima linea l'avanzata lenta potrebbe trasformarsi in cavalcata quindi credo che bisognerebbe bisognerebbe anche tenere in considerazione queste possibilità anche in questa possibilità e veniamo al gasdotto alla questione del gasdotto il nostro in uno che è stato alla fine ha ripristinato ma con un flusso ridotto al 20 per cento è stato riattivato tra l'altro giacomo dopo le dimissioni di draghi subito dopo che cos'è una coincidenza temporale cosa come la valutica io per carattere per perché studio queste cose da parecchio tempo le coincidenze sempre creduto molto poco poi ci sono dei paesi che hanno proprio questo stile cioè di farle sembrare delle delle coincidenze ma in realtà l'antifono è molto chiara cioè il giorno dopo che draghi ha annunciato le proprie dimissioni registrato un dei flussi di gas verso verso l'europa però è stato un fuoco di paglia perché subito dopo ci si è assistito a un netto a un netto calo che come si dicevi all'inizio della puntata ha portato una nuova fiammata dei prezzi fino a fare hanno toccato un quota record sul mercato di amsterdam io credo che la russia stia mandando segnali molto molto chiari perché anche tutte queste rotture questi problemi anche il fatto della turbina che era stata riconsegnata dal canada ma la russia non l'accettava perché c'erano problemi sul bollo di consegna cioè sono cose che fanno lasciano il tempo che trovano evidentemente i russi stanno cercando di far capire agli europei che veramente la posta in gioco e la loro sopravvivenza economica e non solo economica come diciamo come paesi dotati di economie propriamente dette qui si rischia un'ondata di industrializzazione da cui l'europa potrebbe non rialzarsi più io credo che i russi stiano cercando di sottolineare di rimarcare questo se non alle leadership politica che evidentemente vivono sulla luna quantomeno le popolazioni europee che stanno cominciando a fare i conti con questa realtà stefano cosa comporta che prospettive offre un flusso al 20 per cento offre poche prospettive perché in questo periodo dell'anno diciamo normalmente si riempono i depositi i depositi di stoccaggio per la stagione invernale che servono a mantenere le pressioni nei momenti di maggior assorbimento e di consumo e poi se per caso ci fosse un guasto per tamponare gli eventuali cali di afflusso in questo modo con un solo 20 per cento sul 100 per cento quindi con un calo dell'ottanta per cento sul normale transito stagionale noi abbiamo una germania che riesce a fare solamente il consumo attuale non riesce a stoccare nulla se non addirittura consuma gli stoccaggi che ha e questo è un pessimo segnale perché significa che potrebbero spingere sull'unione europea per mettere le mani sulle scorte e sulle forniture dei paesi che ce l'hanno in questo caso siamo noi l'Italia perché noi abbiamo forniture da altri paesi abbiamo le forniture dall'Algeria in parte dalla Libia dal TAP che ci riforniscono in qualche modo in piccolissima percentuale di produzione nazionale il problema e poi abbiamo anche due rigasificatori che in teoria dovrebbero entrare in funzione però il problema è uno fondamentalmente che c'è questa manovra da parte dell'unione europea che intende prendere il controllo della gestione delle risorse energetiche di tutti i paesi europei quindi privandoli di fatto del poter determinare una loro capacità decisionale una loro sovranità sulle politiche energetiche interne se ne hai parlato proprio ieri l'unione europea avrebbe raggiunto un accordo per tagliare del 15% lo so però ci sono già diversi paesi tra cui la Grecia la Spagna il Portogallo e la stessa Italia che dicono no è anche la Francia che pure ha poco consumo di gas però non vogliono tagliare i consumi energetici di fatto sarebbe un taglio a noi per concedere di più alla Germania e questo non va bene ai paesi chiaro non ha senso per le nostre politiche noi dobbiamo fare il massimo che possiamo fare con le nostre risorse e Giacomo senti su questo potrebbe andare in crisi l'unione europea perché non appunto come ricordava poco fa Stefano Grecia Portogallo Spagna e anche Francia non non si si sono già dichiarate non disponibili no a una redistribuzione certo ma vanno citate anche le uscite di Orban in proposito che è stato molto 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 chiaro come del resto diciamo è sua abitudine ha parlato senza mezzi di terra qui si rischia veramente un disastro economico di dimensioni epocali e chiaramente che di fronte a questa prospettiva ogni paese cerca di tirare acqua al proprio mulino ma questo era chiaro già quando l'accordo dell'Italia e Draghi di Maio sono andati in Algeria di fatto sottraendo le quote stornando le quote che erano destinate alla Spagna verso l'Italia ma presa dal 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 punto di vista europeo la questione non si sposta di un millimetro cioè cambi sono solo le destinazioni ma si a fronte di volumi di fornitura identici quindi anche l'aumento che ci sarà ma qui si tratta veramente di se domani la Russia come credo che farà sia chiaro io penso che ci si arriverà a quel punto chiuderà definitivamente i rubinetti da un giorno all'altro poi qui lì dopo si innesca una corsa all'accaparramento che come al solito ci tenderà a premiare il più forte stante ma anche i precedenti parlano chiaro fino adesso sempre fatto a livello europeo quello che era l'interesse della Germania non vedo perché adesso dovrebbe dovrebbe funzionare diversamente il punto è che ci sono dei paesi che magari non hanno una classe politica un po più meno incline ad accogliere i desiderati dell'unione europea invece più più sensibili a quelle che sono le esigenze delle proprie popolazioni e quindi credo che come facciamo notare Stefano gli annunci puntuali da parte di Grecia portogallo spagna eccetera abbiano chiaramente spaccato in fronte quello che molti presentavano un fronte comune ma non è mai stato un fronte comune nemmeno sulle forniture di armi perché la Germania più volte preso le distanze da altri paesi c'è assistito una modulazione diciamo del tono quindi si capiva che alcuni paesi facevano eseguivano gli ordini optortocollo rispetto ad altri che invece lo facevano entusiasticamente quindi credo che aumentino le linee di faglia all'interno dell'unione europea e forse inevitabile questo certo senti rischia di saltare l'unione europea secondo te su questo potrebbe essere un punto proprio di rottura il punto è che scominciano a verificare un po' in tutto il mondo e non vedo perché non dovrebbero verificarsi anche da noi basti sono movimenti popolari dovuti all'aumento proprio del prezzo della vita del costo della vita e quindi se di solito è il principale detonatore di tutte le grandi i grandi cambiamenti che sono stati nella storia ma si vedono dallo sri lanka al malawi a paesi del sud america anche dappertutto si sta verificando proprio una un'ondata di instabilità è dovuto proprio a questo questo rincaro delle materie prime che noi ancora abbiamo diciamo risparmi a cui attingere per poter tamponare in una certa misura ma quanto dura un po durare in eterno prima ho trovato involontariamente comiche le dichiarazioni di cingolani perché lui affermava che l'italia si sarebbe affrancata dal fabbisogno di gas russo io non so in che prospettiva lui la legga questa questa ipotesi perché mi sembra molto lontana dalla realtà è molto scollegata dalla realtà di fatto non c'è modo di affrancarsi e di sostituire il gas russo nel nostro fabbisogno meno che mai in quello tedesco soprattutto se i tedeschi prenderanno del gas parte del gas nostro quindi bisognerebbe capire in che contesto lui vedeva questo questo fabbisogno calato da parte nostro quindi starei attento poi il secondariamente giustamente giacomo diceva dei sommovimenti popolari la gran bretagna oggi ha le ferrovie completamente ferme in tutto il paese per lo sciopero dei ferrovieri che si lamentano per le condizioni del delle retribuzioni rispetto al costo della vita è singolare che la i sindacati facciano il loro lavoro e da noi tacciano perché da noi nessuno parla di compensare entro breve e con urgenza il costo della vita che sta aumentando nelle buste paga dei cittadini e questo lo stanno facendo ammazzando ulteriormente il mercato interno e quindi aggiungono danno al danno certo le dichiarazioni di cingolani giacomo come come le consideri ma direi che ormai cingolani ci ha abituato a tutte queste uscite per cui un giorno la dipendenza dal gas russo cesserà entro tre mesi poi entro sei mesi poi entro nove mesi poi non se ne potrà più fare a meno poi ritorna tre mesi ne ha detta di tutti i colori è allucinante ne ha detto peggio di virologi in pratica credo che infatti la sua carriera futura sia proprio quella di andare in televisione presentarsi più o meno con la stessa autorevolezza a cui ci ha abituato fino adesso non il punto è proprio quello non abbiamo delle infrastrutture alternative cioè noi ci siamo voluti tanti anni per costruire un'infrastruttura così ramificata che trasporta gli idrocarburi russi fino all'europa occidentale ci hanno investito denaro tecnologie eccetera questi sono dei mi sembrano nella migliore delle ipotesi dei dilettanti allo sbaraglio che arrivano con delle soluzioni inquietanti praticamente prendere il gas dal congo che congo ha un minimo sbocco al mare è un paese completamente destabilizzato che anche se qualora si riuscisse a trovare qualcosa ci vogliono anni bisognerà costruire delle infrastrutture che trasportano il gas fino fino al terminale costruire il terminale assicurarsi che lungo il tragitto non si verificano disastri come per esempio accadono quotidianamente in un paese come la nigeria altro paese ricchissimo di idrocarburi quindi noi non abbiamo un'alternativa concreta al gas russo prima che ce lo fichiamo in testa è meglio e meno duro sarà l'impatto mostruoso con la realtà che ci attende secondo me non a chissà quanto lungo termine a qualche mese sì sì parole parole chiarissime e io c'è un ultimo punto che volevo affrontare con voi andiamo letteralmente dall'altra parte del globo perché è un tema secondo me merita di essere affrontato la visita programmata di nancy pelosi lo speaker della camera americana a taiwan che desta parecchia preoccupazione a washington e giacomo perché questa visita di nancy pelosi perché perché come al solito gli stati uniti fanno sempre continuano a fare quello che hanno sempre fatto gettare benzina sul fuoco basti pensare che quella è una situazione talmente ingarbugliata ma per loro per loro responsabilità perché come come tutti sapranno taiwan è un paese che esiste come stato indipendente perché nel 1949 c'è in cai scec il suo kuomintang al termine della guerra civile contro i comunisti di mao per sfuggire all'annientamento si rifugiarono sull'isola e godettero della protezione della sesta flotta statunitense che impedì alle forze di mao di sbarcare sull'isola e di completare il regolamento di conti per fino al 72 questa al seggio delle nazioni unite l'ha tenuto taiwan e la repubblica popolare sinese ha avuto del riconoscimento di pochi paesi nel mondo nel 72 kissinger fa la grande svolta chiude taiwan cambia praticamente il riconoscimento passa la repubblica popolare cinese riconoscimento degli stati uniti però gli stati uniti non per questo disconoscono completamente taiwan lo disconoscono dal punto di vista formale però in realtà continuano a rifornirlo di armi per esempio nel 1992 gli hanno fornito 150 f16 tu lo riconosce un paese a cui vendi 150 f16 e tra l'altro 150 f16 che servono per evitare che un eventuale sbarco della repubblica popolare cinese che riconquisti il paese nel momento in cui xi jinping nel 2017 ha fissato come traguardo per il centenario anno della repubblica popolare cinese quindi 2049 la riunificazione completa della cina quindi compresa taiwan e gli stati uniti hanno colto immediatamente l'occasione per fissare una linea rossa per cui taiwan deve essere difesa ad ogni costo anche con le armi lo ha detto biden lo hanno detto diversi rappresentanti statunitensi la visita di nancy pelosi serve solo a gett come dicevo prima gettare ulteriore benzina sul fuoco dopo che per mesi si è assistita a una crescita della tensione delle schermaglie tra pechino e taipei e che gli stati uniti dal loro punto di vista cercano di fomentare magari per indurre la cina come esattamente in maniera speculare a quanto hanno fatto con la russia cercare di provocare il più possibile per poi magari indurre il paese o il passo falso o cercare la giustificazione per magari obbligare gli europei i loro vassalli ad adottare politiche speculari a quelle che hanno adottato nei confronti della russia quindi non solo l'embargo nei confronti della russia ma anche magari l'embargo nei confronti della cina poi dopo non si sa noi dove andremo a finire però io credo che l'obiettivo degli stati uniti sia fondamentalmente quello certo come no come non è come è reagito la cina male mi sembra no al ministro del ministro della difesa cinese e il ministro degli esteri hanno parlato chiaramente hanno munito chiaramente che le loro forze armate non sarebbero rimaste inerti di fronte a questa proclamata provocazione provocazione che peraltro rievoca un'altra provocazione che c'era già stata nel 97 in quell'anno sempre lo speaker della camera newt gringrich che era un repubblicano visitò taipei e la cosa fece infuriare i rappresentanti di pechino però all'epoca la cina era molto più debole rispetto ad adesso e quindi c'è il rischio che qualora gli stati uniti vedessero cercassero proprio di vedere il gioco che sta facendo la cina e gli aerei dell'esercito popolare di liberazione si alzassero in volo e magari scortassero l'aereo su cui viaggia nancy pelosi costringendola ad atterrare e quindi questo creerebbe anche un bel precedente per cui aerei della repubblica popolare cina sorvolano lo spazio aereo di taiwan in un gesto clamorosamente ostile nei confronti di un paese terzo e la cosa si verrebbe piuttosto interessante ma molto molto certo molto interessante anche molto verosimile come analisi stefano a te la parola si è molto preoccupante il fatto che cerchino di provocare nuovamente la cina speriamo che questo non non abbia poi un seguito vero e proprio perché effettivamente l'ipotesi di affiancare all'aereo del pelosi i caccia di pechino è un'ipotesi che è fattibile da parte di pechino e questo significerebbe entrare con l'aereo statunitense di stato nello spazio aereo quindi impedendo la risposta armata da parte di taiwan è una cosa da tenere d'occhio perché la tensione si sta spostando velocemente sul teatro indopacifico e vedere uno scenario di conflitto che nasce anche là con una logica delle sanzioni che si estenda alla cina è uno scenario veramente catastrofico per la nostra economia se noi pensiamo alla quantità di prodotti che ci arriva come catena di rifornimenti e materie prodotti finiti dalla cina significa affrontare una deserto nei supermercati nei centri commerciali una devastazione del nostro mercato e nella nostra economia interna prima di tutto e questo per anni nel frattempo che si dovesse immaginare di spostare nuovamente di qua non si sa con che risorse le catene di produzione è una cosa allucinante alla quale non voglio neanche pensare certo in ogni caso è probabile che si stiano aprendo altri fronti in altre parti del mondo come può essere nel caso di Taiwan noi ovviamente seguiremo con molta attenzione tutti tutti gli sviluppi ci avviciniamo alla conclusione se pensi che il lavoro del vaso di Pandora sia importante e utile per la tua informazione meritiamo il tuo sostegno ti ricordo che il nostro canale è totalmente demonetizzato da youtube da un anno e mezzo e ora abbiamo per te due possibilità per sostenerci il bonifico bancario libero oppure e questa è una novità la possibilità di unirti a patreon la community che abbiamo da poco creato che ti permette anche di avere uno scambio più vicino con noi e di fruire di notizie e materiale extra se sei già entrato su patreon potrai vedere che c'è la possibilità di diventare anche idealisti appassionati aderire con la formula degli idealisti appassionati in ogni caso il tuo sostegno è e rimane fondamentale per l'esistenza e l'evoluzione del nostro canale trovi qui sotto in descrizione il link per fare la tua scelta su come sostenerci e siamo proprio in chiusura abbiamo affrontato tante cose in maniera molto molto dettagliata importante io ringrazio i miei illustri ospiti per le preziose disamine quindi grazie a giacomo gabellini grazie a voi grazie grazie giacomo e grazie a stefano orsi per approfondimenti sulla sull'evoluzione militare e bellica in ucraina io consiglio vi invito a seguire il canale di stefano molto interessante grazie 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 stefano grazie giacomo grazie nostri ascoltatori